Domenica 5 maggio torna la Treviso in Rosa, la corsa più partecipata d'Italia dedicata alle donne. Una grande festa che colora la città e che quest'anno raggiunge il traguardo dei 10 anni e fioccano le iscrizioni individuali e di gruppo. Sono partite le grandi iscrizioni, moltissime sono le donne già iscritte. Contiamo di andare a battere il record post-covid che è di 10.200 e di avvicinarci al record assoluto delle 17.543 del 2019. Già pronta la maglietta del decimo compleanno. Eccola qui, una maglietta che è bellissima e che vuole avere anche un contenuto forte, è un cuore e un'impronta. Che per noi significa cuore ed impronta delle donne che parteciperanno a Treviso in Rosa e che regaleranno a Treviso un'altra giornata indimenticabile. Ed anche quest'anno la Treviso in Rosa, oltre che una festa, vuole essere un momento di riflessione sulla salute e sui corretti stili di vita per la prevenzione in particolare del cancro al seno. Di qui la collaborazione con l'ILT che della prevenzione ha fatto la propria missione ed in questa occasione si rivolgerà alle donne per sensibilizzare appunto sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella. I dati purtroppo sono in crescita con oltre 800 nuove diagnosi all'anno nella marca. Abbiamo veramente dei numeri che crescono, però fortunatamente accanto a questi numeri abbiamo se la diagnosi è precoce, quindi diagnosticata in maniera repentina, a distanza di 5 anni siamo sulla guarigione al 90%. Quindi quanto è importante parlare di prevenzione, parlare di diagnosi precoce. L'ILT fa proprio la propria missione, prevenire e vivere.